Emozioni. Sotto l'impegnativo sguardo dei fregi e robbiani in piazza Giovanni XXIII si è tenuta una serata con il titolo Emozioni dal mondo. Serata inserita nel cartellone del Pistoia Festival della quale è stato protagonista il fotografo pistoiese Luca Bracali con i suoi lavori presentati in quattro parti. La prima dedicata alle 13 spedizioni polari cui ha partecipato Bracali, la seconda allo spazio con le stelle e pianeti, la terza al poco meno vasto universo femminile e la quarta alla presentazione in anteprima dell'ultimo libro realizzato dal fotografo esploratore. La serata è stata realizzata dalle associazioni 360 gradi Moda Spettacolo Cultura e dagli amici di Pupigliano e Valle del Brandeglio, presentata da Serena Magnanensi e animata da diversi ospiti tra i quali lo psicologo e filosofo Massimo Fochi. Il mio ultimo viaggio è stato quello che presenterò comunque anche qui stasera nei più grandi osservatori astronomici della Terra, Cerro Paranal nel nord del Cile. Il mio è un mese fa e il prossimo sarà fra un mese in Kenya per la migrazione degli GNU. Il viaggio può avere sia un connotato negativo, cioè nel viaggio si può trovare il desiderio di fuga, il desiderio di rivalza, il desiderio di allontanarsi dalla conflittualità entro la quale siamo iscritti e che ci può dilaniare, ci può far sentire piccoli, ci può far sentire non realizzati, quindi il viaggio come allontanamento illusorio peraltro dal conflitto. Poi c'è una dimensione invece positiva, estremamente positiva del viaggio, un viaggio che presuppone una solidità interiore, una forza interiore, quei viaggi che sta facendo Luca. Direi che la perifrasi che meglio lo descrive è quella frase di Dante, con i Remi facciamo alia il folle volo, ecco c'è qualcosa ovviamente di folle, anche Luca lo sa, lo ripeto più volte nel suo rischiare la vita in molte situazioni c'è qualcosa di folle, però c'è qualcosa di molto umano, l'uomo che cerca i suoi confini, i confini del possibile. Oltre a esploratore ora sei anche regista Rai. Evidentemente mi hai portato fortuna tu, caro Fabio. Sono partito da TVL 15 anni fa con le tue interviste come Serena Magnanenzi del resto ed entrambi ci ritroviamo a Rai 1. Faccio il regista, regista per Easy Driver, la trasmissione appunto di viaggi che appunto coniuga il piacere di viaggiare in moto d'auto per le strade di Italia.